Incendi, inondazioni e dispersione di sostanze tossiche nell'ambiente sono i rischi ai quali è più esposta la popolazione del Comune di Venezia, secondo il Piano Comunale di Protezione Civile approvato nel 2009. Tra i rischi cosiddetti prevedibili c'è innanzitutto quello di inondazioni dovuto sia al gran numero di corsi d'acqua che attraversano il territorio, sia l'inadeguatezza del sistema fognario. Quella della terraferma è infatti una rete di acque miste bianche e nere che inevitabilmente, in caso di precipitazioni intense, non è in grado di assorbirne l'impatto. Nello scenario più pessimistico, ipotizzato dagli analisti, quello del cedimento degli argini di alcuni corsi d'acqua, ampie porzioni del territorio cittadino sarebbero inondate. È necessario, si legge nel Piano, sviluppare una nuova cultura della sicurezza idraulica che nel caso di un evento di piena consente di gestire efficacemente l'emergenza, individuando delle aree dove l'esondazione farebbe meno danni da utilizzare come casse di espansione. Classificato come rischio imprevedibile è invece quello dell'incidente industriale che porta al rilascio di sostanze tossiche nell'ambiente. A Porto Marghera le aziende a rischio di incidente censite nel 2009 erano 18, qualcuna nel frattempo ha chiuso i battenti. L'area più colpita da questo genere di emergenza, oltre alla zona industriale, sarebbe quella di Marghera e Malcontenta, dove dovrebbero essere effettuate periodiche campagne informative per educare la popolazione a comportamenti sicuri in caso di emergenza, cosa che negli ultimi anni si è vista sempre meno. Tipica della Venezia insulare è poi la vulnerabilità agli incendi, considerati il rischio più grave cui è sottoposta la città. Gli effetti e la probabilità di propagazione di un incendio sono aggravati dall'elevata presenza di legno nelle strutture degli edifici storici e dalle difficoltà di movimento dei mezzi di soccorso. Il completamento della rete idrica antincendio è indicato nel piano come prioritario e fondamentale. Negli ultimi vent'anni sono stati realizzati oltre 47 chilometri di rete. Per completare il lavoro ne mancherebbero ancora una trentina, ma i lavori procedono a singhiozzo per la carenza di finanziamenti.